Ciao ciao a tutti, eccoci qua. Allora, posso finalmente mostrarvi i progetti delle box di questo mese. Vi ricordo che le box escono domani, lunedì 7 giugno, se non sbaglio alle ore 15, insieme a, come ho capito, una valanga di bag anche. Allora, vi mostro i progetti, vi devo chiedere innanzitutto scusa perché vi mostrerò praticamente un orecchino per progetto perché è la vita quotidiana mia travolta e sono riuscita a creare i due progetti ma non sono ancora riuscita a fare i gemelli per fare anche le foto degli schemi da mandare a Valeria che vi ricordo gli schemi li riceverete insieme con l'acquisto delle box. Quindi, li riceverete via mail nei giorni successivi all'uscita delle box, quando normalmente Valeria li manda, quando ha terminato con il corriere, le spedizioni e i pacchi. Quindi ho tempo, ce la farò, ma prima di oggi proprio non ci sono riuscita. Ho dato la precedenza a creare prima uno poi l'altro per avere il progetto e poi ho detto, va bene, una volta che l'idea c'è, mi dedicherò agli schemi appena ho mezz'ora di tempo. Quindi scusatemi per questa cosa, portate pazienza. Allora, vi mostro subito il progetto della box variante numero uno, le box e il contenuto ve le ho mostrate nello scorso video. Questa era sui toni del verde e del bronzo ed abbiamo lui, aiuto, aspettate che non riesco a prenderlo in mano. Eccolo qua, eccolo qua, questo orecchino ovviamente a forma di fiore direi, con queste petali giganti, con i rivoli da 14 all'interno. Questo è il retro e Super Duo, quelle perle English Cut da 3 mm, le Ginko e Rokai 11 e 15.0. Eccoci qua, questi sono gli orecchini Bluma, ok? Poi abbiamo il secondo, ovvero quello della variante di colore numero due, che era sui toni più caldi, del copper, il colore pesca e giù di lì. E abbiamo gli orecchini Bao, eccoli qua, questo è il retro. Carigno anche là, disegnare così. Ed eccoli qua, sempre i corriboli all'interno, perle da 4, le Super Duo, le navette e i Megapip sul retro come struttura. Quindi, questi sono i due progetti di questo mese. Spero che vi piacciono. Che belli i colori, vesti così. Non so per scegliere. Spero che vi piacciono. Ricordo, riceverete gli schemi dopo l'acquisto della box. Dopodiché, io caricherò anche gli schemi singolarmente nel mio negozio Etsy. Che poverino, è abbandonato a se stesso. E da un po' di tempo, purello, va bene. Quindi, sono felice di aver rimesso un po' le mani in pasta. Tempo in realtà ne ho pochissimo, purtroppo. Motivo per cui sono così assente dal mondo delle perline. Però mi ha fatto proprio piacere riuscire a impormi di trovare qualche minuto per le mie adorate box. Della mia adorata Valeria. E niente, io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate, quale preferite. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!